Il Parco del Sole si arricchisce di nuove iniziative, questa volta pensate per la terza età e per gli overanta. È stata inaugurata infatti un'area fitness nel verde per la ginnastica dolce con attrezzi studiati per l'attività fisica dei senior che vogliono mantenersi in forma con esercizi semplici stando all'aria aperta nel polmone verde cittadino, a due passi dalla Basilica di Colle Maggio. La palestra all'aperto del Parco del Sole è una delle poche realtà presenti in Europa di questo tipo e dedicata a quella popolazione che spesso resta ai margini. Per l'assessore all'ambiente del comune Fabrizio Taranta si tratta di una bellissima iniziativa che mette un ulteriore tastello al progetto complessivo del parco e della sua riqualificazione. Questo parco che è uno dei gioielli verdi della nostra città, ha tanti spazi dedicati a tutte le età, è molto frequentato però anche da persone non più giovanissime che magari accompagnano i propri nipotini a giocare o che vengono qui a camminare, a correre, a fare un po' di attività fisica che sappiamo è importante anche oltre i 60 anni per ritardare l'invecchiamento, per apportare benefici di ogni genere. E dopo questo momento così complicato che le nostre comunità hanno vissuto e anche in questo caso il range d'età più colpito è quello insomma dai 60 anni in più abbiamo deciso di dedicare un'aria su questo parco così bello proprio a loro e non abbiamo voluto mettere in piedi la solita area dedicata alla lettura o comunque a momenti di calma e di riposo ma dare la possibilità anche alle persone un po' più avanti con gli anni di poter esercitare dell'attività fisica quindi mantenersi in forma e godere così all'aperto di questo spazio verde pensando anche alla propria salute e socializzando con i parietà.